E' stata accolta dal sindaco Luigi De Magistris nel palazzo istituzionale della città una delegazione di studenti del programma Erasmus provenienti da diversi paesi del mondo. Organizzata dal servizio Cooperazione Decentrata Legalità e Pace del Comune, la manifestazione vuole favorire il rapporto diretto tra giovani e istituzioni per diffondere la cultura di un'Europa unita presso un pubblico sempre più vasto di studenti universitari. Nella sala giunta con il sindaco De Magistris e di giovani che partecipano al programma di mobilità Erasmus, anche i rappresentanti delle università Partenope, l'Orientale e il suo rursola ben in casa. Dare il benvenuto a loro qui nella sala giunta significa accogliere i giovani di tutto il mondo e della nostra Europa perché c'è necessità in questo momento storico di unire i popoli a difesa del pianeta e per la pace e non fare la caccia al popolo, all'etnia diversa dalla nostra. Napoli è una città con una grande storia, una grande cultura, ma è una città accogliente, è una città che ama il confronto con gli altri popoli, è una città internazionale, è la città d'Europa con il maggior numero di bambini e di giovani, quindi siamo felici di accoglierli a Napoli e in questa giornata nella sala giunta del comune di Napoli. Sono arrivato in settembre, allora un mese e mezzo, è un modo bello che mi piace la città e la gente, sì, mi piace molto Napoli.